pillole di non solo suoni la storia della musica passa da noi eccoci di nuovo insieme oggi abbiamo deciso di portarvi al 2011 con una canzone che un noto gruppo italiano e amatissimo ha realizzato in collaborazione con un artista scomparso nei mesi scorsi parliamo di come un pittore dei moda insieme agli arabe de palo di pao donesse era quindi una decina di anni fa quando questo brano uscì per poi essere inserito nell'album viva i romantici della band il singolo per la precisione è stato pubblicato 6 aprile del 2012 in contemporanea con l'uscita dell'omonimo libro come un pittore di checo silvestre il cantante del gruppo e proprio lui ha spiegato così il significato mi sono sempre chiesto come sarei stato se fossi diventato padre che cosa avrei raccontato mio figlio e la risposta l'ho trovata in questa canzone in cui gli mostro solo le cose più belle della vita dipingendole con dei colori proprio come un pittore appunto ha spiegato francesco checco silvestre dopo l'uscita in italiano ecco che il 5 giugno di quell'anno sul canale youtube degli arabe de palo è stata pubblicata una versione interamente in spagnolo mentre il 22 giugno tramite il loro canale ufficiale sempre su youtube ecco che i moda hanno pubblicato una nuova nonché quarta versione del brano con alcune parti in spagnolo e altre in italiano il giorno successivo questa italian spanish version è stata resa disponibile per il download digitale ed è entrata in rotazione radiofonica diventando presto un successo la conferma è data dal fatto che proprio a giugno del 2012 la canzone ha ottenuto la certificazione disco d'oro per le oltre 15.000 copie vendute mentre a metà luglio ha ottenuto anche il primo disco di platino e a fine ottobre il secondo del brano esiste naturalmente anche un videoclip pubblicato lo stesso giorno del singolo e naturalmente è presente anche pao dones cantante degli arabe de palo il filmato è stato girato in parte su una spiaggia di campagnola una frazione di malcesine sul lago di garda in parte anche in studio durante le registrazioni proprio con il leader degli arabi de paolo ed è stato prodotto dalla run multimedia con la regia di gaetano morbioli come accennato la canzone allo stesso titolo del libro di checo silvestre questo uscito l'otto maggio da sperling coffer si racconta della storia naturalmente dei modà che dopo anni di gavetta sono riusciti ad avverare il loro sogno e a raggiungere un successo tale da permettere loro di raggiungere davvero con la musica un pubblico molto vasto che corri percorre la storia del gruppo le scorribande su e giù per l'italia le litigate furiose ma anche la grande amicizia che lega i componenti della band nata nel 2002 il loro debutto per il grande pubblico proprio avviene con il festival di san remo del 2005 con il brano riesce a innamorarmi arrivato dopo però altri album precedenti è proprio però con il disco del 2011 vive romantici che diventano popolari vendendo oltre 450 mila copie in italia un successo legato a quello dei singoli estratti tra i quali la notte sono già solo e come un pittore per l'appunto nello stesso animo da tornano anche al festival di san remo con il brano arriverà in duetto con emma e arrivano al secondo posto partecipano anche al festival del 2013 questa volta arrivando terzi con se si potesse non morire la canzone anticipa il loro quinto album intitolato gioia pubblicato alcuni giorni dopo l'esibizione poi a novembre del 2015 è uscito anche il sesto disco di inediti passione maledetta al giugno del 2019 e dopo quattro anni di assenza è uscito invece il nuovo singolo quel sorriso in volto che ha anticipato l'album testa o croce quanto a pao dones ha lasciato il vuoto nel cuore dei fan dopo la sua scomparsa a giugno del 2020 a 53 anni per un tumore nato e cresciuto a barcellona è stato voce chitarra compositore del gruppo degli arabi del palo dopo aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica a 12 anni quando ha ricevuto la sua prima chitarra e ha comprato anche i suoi primi dischi uno dei beatles e un altro di bob marley allora oggi lo ricordiamo così ciao